Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti! Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure che ogni settimana porta a casa vostra al meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda, di Mac e del buon Capitano Rubbo! Ciao ragazzi! Che questa settimana non farà il Capitano Rubbo, stranamente! È vero, infatti questa settimana gioco retail, no in realtà no! Per i quattro che leggono le descrizioni dei nostri episodi sapete di cosa sto parlando. Non sapete cosa vi perdete comunque perché nelle ultime settimane Jack ha veramente superato se stesso, posso dire. Allora ragazzi, al di là di queste facezie, devo dire la verità, abbiamo iniziato questa settimana con una brutta notizia, cioè dovevamo fare la BGG Top 50, purtroppo per problemi tecnici non è stato possibile farla, ho anche scritto all'autrice della BGG Top 50, mi ha scritto che purtroppo per problemi tecnologici la classifica non è pronta in tempo, quindi paura di niente di nessuno. Facciamo un altro intervento, secondo me molto interessante, un po' ristretto, alternativo, che speriamo vi possa interessare, ma questo più tardi. Stiamo continuando con i teaser. Noi facciamo i teaser dentro i teaser, l'inception dei teaser. Bene, che dire, dopo la buffata di ringraziamenti e report su IDAG di questa settimana, della settimana scorsa, è meglio tornare a bomba su quelle che invece sono proprio le uscite in arrivo, grazie al nostro ovviamente sito di riferimento, nonché sponsor magicmerchant.it, che ovviamente vi ricordo ha ancora fino alla fine del mese di gennaio, ma stiamo cercando di ovviamente prolungare questa cosa, avrete il 15% di sconto su tutti gli accessori che acquistate sul sito di magicmerchant.it. Parlando appunto però di negozi online, che cosa sta bollendo in pentola? Dopo ovviamente la pausa delle prime settimane di gennaio, ecco che si sono palesati, al nostro sguardo attento, nuove uscite davvero davvero molto interessanti. Quali Jack? I primi titoloni dell'anno e non potevamo non iniziare dal mitologico Marco Polo 2 in italiano. Marco Polo 2 in italiano è uscito ufficialmente lunedì scorso, quindi non è una notizia freschissima, ma ovviamente se l'avete seguito sapete già, se siete stati un po' distratti, ve lo ricordiamo noi. Marco Polo 2 is on. Ragazzi vi devo dire la verità, mentre camminavo per Idea G, ogni volta che vedevo Tascini e Luciani, il mio cuore esplodeva e nutriva. Te lo giuro, volevo andare lì e abbracciarli tutti e vederli. Gli hai detto del personaggio? Dai vai mona a me, che volevo dirgli grazie per aver fatto questo capolavoro, però in realtà uno, Tascini, aveva un po' paura perché Hour of Majesty è sempre molto riservato e tutto, mentre Luciani ragazzi è uguale al nostro amico Frank, nell'aspetto, è identico in tutto e per tutto, avevo paura mi tirasse una cinquina che mi voltava. Ragazzi Luciani non è Papa Luciani, è l'autore di Marco Polo. Anche perché sarebbero zombie, esatto. No, però magari qualcuno sta conoscendo banda, hype. E banda riga bacciare i zombie. Allora ragazzi, quindi Marco Polo 2, ripetiamo, stiamo già preparando l'intervento, tranquilli, richiamate la polizia, siamo pronti, siamo sul pezzo. Dovete ancora farlo provare, ve lo dico. Bellissimo, bellissimo. Noi l'abbiamo provato a essere. L'abbiamo fatto solo una partita a fonfa tra l'altro. E l'abbiamo pazientemente aspettato in italiano. Mi hanno dato il personaggio rotto per non farmi vincere. Ma vai mona a me. Grazie a Giochi Uniti, facciamo anche questa marchetta, Idoli Totali, l'avete portato in italiano. A proposito di Giochi Uniti, ho provato la versione digitale di Tainted Grail, ragazzi. Non dire niente perché ne parlerò ogni prossima settimana. Ah, aria fresca. Allora, no, mettiamola così. Questo è il teaser di settimana prossima. Aspetta, mettiamola così. Se il gioco da tavolo sarà figo anche solo un decimo dell'alpha del gioco da computer, ragazzi. Bomba atomica. Siamo già a posto per il gioco dell'arno. Bene, bomba e cobalto, non cresce più niente. Bene, così. Allora, poi abbiamo un'altra uscitona di esattamente la settimana scorsa, è La Guarda dei Mondi di Asmodee, vero titolo che abbiamo seguito già nei tempi di Asmodee. In 1v1, totalmente asimmetrico. Dipenderebbe un distribuito da Asmodee. Esatto. Quello a cui abbiamo tentato inutilmente di giocare per tutta Essen era camperato continuamente. Ecco, su questo gioco nutro, nutro, diciamo, due giudizi. Ambivalente, sei ambivalente. Mi attira tantissimo il fatto che sia 1v1 deck building e guerra dei mondi, ma vi giuro a vederlo, mi taglierei gli occhi con una sola. Le illustrazioni, secondo me, guadagna molto poco il gioco, del tipo di illustrazioni che hanno scelto di utilizzare. Sono d'accordo. Però, almeno dal punto di vista regolistico, perché il regolamento lo so, perché speravo di provarlo. Ah, l'hai già spiegato. E ragazzi, quello gioco deve essere veramente molto interessante. Ah, infatti l'avevamo molto seguito, ma non c'erano due tavoli a Essen ed erano sempre pieni. Sempre camperati. E cambiando totalmente il genere, sempre qualche giorno fa sono usciti tre personaggi extra, ovviamente per Marvel Champions, ragazzi. Olè! Io ho scritto al Dottor Merchant e quando uscirà la puntata molto probabilmente li avrò. Esatto. Vediamo di farmi giocare qualcosa di diverso la pantera nera fuffo, per cortesia. Tipo Thor. Cioè, gente che spazia. No, allora escono, escono, escono Goblin, Capitano America e Miss Marvel. Vabbè, dai, dammi capo. E a febbraio escono Thor e altri. Dicono, belli spoiler, che Miss Marvel sia molto bella ad utilizzare. Sì. Va bene così. Io mi fido. Bella e brava. Bella e buona. Il gioco funziona in maniera egregia. È stato nella nostra top 10 di fine anno. È uno degli LCG con cui siamo divertiti di più durante le feste di Natale. Quindi, ovviamente, ragazzi, consigliatissimo. Attenzionatelo. Attenzionatelo. E se... Non so se sia disponibile la scatola base, è tornata disponibile. Mi pareva di sì, perché sono preordinabili tutte le espansioni, tra cui anche Thor, che lo sia già preordinabile. Ma quello esce il 12 di febbraio. In ogni caso, già adesso, già questa settimana, erano rimaste poche copie. Perfetto. Comunque, ragazzi, a aspettatevi e, ovviamente, ripetiamo, DBC15 è l'offerta in atto. Ma perché non abbiamo zuffolato? Perché? Perché in realtà lo sponsor ufficiale di questa settimana, per la seconda settimana, seconda e ultima settimana, non è niente proprio di meno che gem, i tavoli per boardgame e accessori di qualità sempre relativi al boardgame. Quindi, zuffolo alternativo e poi andiamo a spiegare, per chi se lo fosse perso la settimana scorsa, in cosa consiste questa promozione. Zuffolo alternativo! Bene. Jack, scusa, il cashier per sta roba è un tavolo a testa, giusto? No, l'abbiamo già sfruttato e ci stiamo parlando sopra. E non è assolutamente un tavolo, perché va bene che noi abbiamo le lunghe leve e ormai abbiamo chiaramente un potere mediatico che va praticamente... Mi rivolgo a te, signor Gemma. Avrei bisogno di un tavolo 140 per 140 da utilizzare in zona prana. Esatto. E cosa fate? Se siete come Ale in cerca di un tavolo da gioco, cosa fate? Andate sul sito che adesso vi dico e vi fate fare un bel preventivo for free, senza impegno e se poi decidete di andare avanti con l'acquisto avrete il 10% di sconto sull'acquisto e il montaggio a casa vostra gratuito da parte del mitico Andy Gagnorio e sulla sua schiera di bruti verranno a casa vostra e vi monteranno il tavolo direttamente nella stanza che volete più assolutamente... Fischiettando come se fosse Alexa. Esatto. Allora, qual è il sito di riferimento per fare questo preventivo? Ve lo dico subito, attenzione perché lo vedete solo se ascoltate questa trasmissione. Il sito è dbc10.mobili-gem.com. Ripeto, dbc10.mobili-gem.com. Ovviamente Gem, ragazzi, lo spelling è G-E-M, ok? G di Genova e di Empoli, M di Modena e quindi ragazzi andate a farvi una visita a questa pagina in cui potete dare un'occhiata ovviamente ai componenti del tavolo e farvi un'idea e cercare di iniziare magari un percorso di, come dire, acquisto che nel caso dei tavoli da gioco di gem non è proprio banale perché ci sono molte possibilità di personalizzazione, i pacchetti non sono chiusi, i tavoli sono fatti artigianalmente secondo quelli che sono i vostri gusti e le vostre esigenze e quindi ovviamente è più che altro una consulenza che si inizia a fare e che sforcia dopo ve lo auguriamo nell'acquisto di un tavolo da gaming vero e proprio. Quindi ragazzi gemdbc.mobili-gem.com andate a vedere questo sito, ve lo consigliamo anche se l'idea è lontana dalle vostre possibilità o dalle vostre desideri attuali, comunque vale la pena di informarsi e farsi un'idea su quello che vuol dire acquistare un tavolo da gioco. Ragazzi, è il momento di fare il passo oltre al fatto di comprare Kickstarter e non dirlo l'amorosa. Comprate il tavolo nuovo, non lo dite l'amorosa, ci mettete la solita tovaglia e fate finta di niente. Se vi dice qualcosa dite ma no, cioè... E' importante rispettare le misure del precedente e sbarazzarsi in modo furbo. Mettete la tovaglia di quello di prima e le stesse misure e nessuno si accorgerà di nulla. Esatto, tanto questi tavoli c'hanno il mitico effetto moglie, quello che praticamente rende il tavolo da gioco un tavolo assolutamente normale da pranzo. Esatto, di fatto ragazzi il tavolo è normalissimo, togliete dei pannelli, si forma questo fantastico pozzetto come dire foderato. Questo reinato pozzetto foderato. Ovviamente appena voi estrarrete un cassetto per appoggiarci la birra qualcuno potrebbe non tenere dei sospetti, ma per il resto direi che è tutto normale. Benissimo ragazzi, e con questo abbiamo chiuso anche questa seconda settimana di sponsorship con Gem per i tavoli da gioco. Ricordatevi che l'offerta è valida fino a mezzanotte di mercoledì prossimo, quindi affrettatevi. Grazie a Gem e andiamo con lo zuppo alternativo di chiusura. Bene ragazzi, e vi parlavo prima di appunto la mancata presenza della BGG Top 50 che personalmente mi manca moltissimo. C'è una tristezza in profondo che ha una tristezza ragazzi. Detto questo, essendo che abbiamo appena varato un nuovo decennio, siamo nel 2020, Borg & Geek ha deciso di fare delle classifiche, in realtà ha rilasciato dei dati impacchettati in un modo un po' particolare. Cioè ha chiamato questa mini rubrica Through the Decades, cioè attraverso le decadi, e l'ha diviso in due parti. Che cosa state comprando e che cosa avete giocato? Allora, io mi sono concentrato di più sul proporvi quelle che secondo me sono le informazioni più interessanti sugli acquisti e sugli accumuli di acquisto nel corso delle decadi. BGG ha iniziato a raccogliere dati nel 2001 e ovviamente i dati dei primi anni sono abbastanza poco indicativi perché il sito era molto poco noto. Diciamo che sostanzialmente quello che ho preso in esame sono stati sostanzialmente gli ultimi dieci anni. Ci sono delle ottime idee, delle ottimi spunti. Io vi propongo quelli che secondo me sono stati i punti più interessanti di questa analisi fatta da BGG, però vi consiglio, se vi interessa il gioco da tavolo anche come movimento culturale, come crescita di mercato, andate a vedervi queste rubriche. Sono in un page, sono molto facili da reperire. Comunque se avete bisogno mi iscrivete e io vi do tutti i link dove andare a consultare questi dati che non sono pochi. Allora, prima cosa ragazzi, andiamo a vedere un attimo com'è cresciuto il mondo del gioco da tavolo. Ovviamente tutti i dati che vi do sono relativi alla community di BGG che conta centinaia di migliaia di utenti. Ovviamente è un datamento base incredibile per quello che è il nostro hobby, non è tutto il mondo del gioco da tavolo, è il mondo degli appassionati. Quindi non troverete monopoli, risichi vari, troverete i giochi che piacciono a quelli che ascoltano questa trasmissione di fatto. E secondo me per questo i dati sono ancora più interessanti. Allora, pensate a una cosa, c'è spesso questa cosa del mercato che cresce in maniera esponenziale, ma non si sa mai quanto, nessuno ha veramente i dati. Una delle cose più indicative è questo numero che ho trovato. Nel 2010 il totale dei giochi posseduti da tutti gli utenti di BGG era 1.166.000. Ok? 1.150.000 giochi. Nel 2019 siamo a 5.860.000. Quindi abbiamo praticamente, siamo 5 volte più grandi, cioè il nostro mondo è quintuplicato. il 10% al deposito. Quindi ragazzi, più o meno sappiate che la quota giochi degli appassionati worldwide, cioè globali, del gioco da tavola è 5 volte tanto di quella che era 10 anni fa. Si andrebbe a vedere in proporzione quanti Kallax ha venduto l'IKEA. Ah beh, è molto interessante. L'IKEA si sta domandando come mai. Bene, quindi 5 volte tanto. Andiamo adesso al 2019, anno che abbiamo ovviamente sviscerato per intero noi qui al DBC. Abbiamo visto ovviamente tutte le classifiche dei most played. Vediamo i giochi più acquistati l'anno scorso. Attenzione perché si parla di giochi, tutti i giochi, non i giochi usciti nel 2019. Quindi quegli utenti che hanno aggiunto alla loro collezione un gioco. Ok? Allora, parto dal quinto posto ed è Catan. Ok? 16.000 copie. Un grande caposaldo. 16.500 copie. Ricordiamo che non è che sono copie comprate dalla gente, sono copie acquisite nelle collezioni degli utenti e segnalate. Per caso, spiegherò anche se Catan, come Catan raccolgono anche tutte le varie derivazioni. Catan... In ogni sua forma? No, il Catan base. Tutti i Catan hanno una scheda. Ok. Quindi ogni scheda è un gioco. Quindi il solo Catan originale. Il solo Catan. Quello rosso con il sole in bella vista. Il solo Catan è quinto. Al quarto posto Pandemic. Eh beh. Che ovviamente ragazzi non vi dico... Io mi sono andato a vedere tutti gli anni perché c'era la top 25 di tutti gli anni. Pandemic e Catan sono nei top 5. Forever. 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 Al terzo posto Terraforming in Mars. Scusate. Giustamente. Al secondo posto Azul. Al primo posto... Posso dirlo? Non posso provare? Certo, puoi provare... Seven Wonders. No, è facilissimo ragazzi. E con numero astronomico. Astronomico. Io leggo quindi mi sono ritirato. Wingspan. Pensavo Guns Sean Clever. No. Guns Sean Clever non è nemmeno nella top 25. Giustamente. Perché c'è l'app. La cosa incredibile è che per esempio l'unico vero big game nella top 10 è Gloomhaven. Sì. Che pensate quindi... Il peso specifico. Quanto si sta... Quanto si è diffuso un gioco di questo peso. E che è circondato da Seven Wonders 2, il Carcassonne, nome in codice. Un'altra roba... Cioè per l'ennesima volta Wingspan è questa cosa incomprensibile. Wingspan ha distrutto tutti e ha fatto ovviamente il disastro. Questo per chi segue la top 50 sapete che Wingspan è abbastanza assaldamente al numero uno da circa sei mesi. Tra l'altro se non ho capito male la seconda espansione dopo gli uccelli dell'Europa sarà quella dell'Australia. solo che tra poco probabilmente. Tristemente. Non c'è più niente. Prima di passare al prossimo punto faccio una cosa simpatica. Lo dico perché è stato il nostro gioco dell'anno del 2018. Cioè Spirit Island che è diciottesimo. Un altro big game all'interno di giochi come Kingdomino, Splendor, The Mind. Max respect per Spirit Island. Spirit Island veramente massimo rispetto. Allora la top 3 del 2010 è stata stessa classifica. Quindi gente che ha aggiunto alla propria collezione via usato, comprato nuovo, rubato in banca, non lo so. Regali della nonna. Dominion, Carcassonne e Catan. Sorprese poche. Ok giusto per la cronaca. Ma la cosa incredibile è questa. Pensate che i top 3 hanno accumulato 18.520, chiamiamole vendite. Quindi Dominion. Acquisizioni. Nel 2010 Dominion, Carcassonne e Catan insieme hanno fatto 18.000 copie. Nel 2019 le copie dei primi 3 accumulate sono 66.381. Sei volte tanto. Sei volte tanto. Quindi le 6442 copie di Dominion servivano giusto per un cinquantesimo posto. E Dominion aveva vinto. E ragazzi la crescita, non ve la dico tutta, però è veramente esponenziale. Tra l'altro c'è il gap più grosso, è fra 2016 e 2017, dove si è guadagnato un milione di giochi. Miseria. In quell'anno lì c'è stata veramente una grande esplosione. Vado avanti con un altro dato abbastanza interessante e sono ovviamente i giochi più acquisiti all time. Cioè qui si è aggregato tutto l'aggregabile e è venuta fuori una top 10 che è ovviamente di superclassici che tutti quanti noi amiamo e probabilmente abbiamo giocato almeno una decina di volte. Quinto posto? Dominion. Dominion. 93.000 copie. L'immortale classico di Vaccarino. Un altro qui invece ritorna banda. Seven Wonders. Seven Wonders al quarto posto. Lo pensavo più alto. C'era Ticket to Ride? No. Al terzo posto c'è Carcassonne che ovviamente ragazzi è diventato ovviamente quello che è diventato. Al secondo posto c'è Pandemic e questo è veramente capite quanto ha cambiato il mondo l'uscita di quel gioco 12 anni fa. Al primo posto naturalmente Catan. Catan con un numero di copie astronomico 134.695 copie. Ricordiamo che non sono acquisti ma sono persone che l'hanno acquisito nella loro collezione. Questo per dire per l'ennesima volta che sostanzialmente Catan è il papà del gioco moderno. È il gioco a cui noi dobbiamo il fatto che siamo qui seduti attorno a un tavolo a parlare di giochi da tavolo 25 anni dopo. Original 95. 94-95. Klaus Teuber grazie. Tra l'altro ho acquisito grazie a mezzi leciti, no lecitissimi, il mitico Noblesse Oblige che è il secondo gioco più famoso di Klaus Teuber cioè che non conosce nessuno ma è un gioco Alea di cui parlerò in futuro. Beh Noblesse Oblige mi pare una roba da Duca Conte poi. No è un gioco mi hanno detto, ne parlavo con qualcuno, non mi ricordo chi all'associazione a Vittorio Veneto e mi ha detto che l'ha provato a una fiera super sconosciuta, il gioco si chiama Adel Werflit, è un termine tedesco che si può tradurre con Noblesse Oblige e ha detto che è un gioco stranissimo, un gioco stranissimo, estremamente fuori di testa quindi non vedo l'ora di provarlo. Bene, poi andiamo ovviamente sui giochi, adesso shiftiamo un attimo l'argomento e andiamo su invece i giochi che sono stati messi nelle wishlist. I più desiderati. I più desiderati nel 2019, quelli che sono stati aggiunti nella propria nella propria lista del vorrei acquistarlo. La lista dell'hype praticamente. Al quinto posto abbiamo pensate Gloomhaven, ok? Poi abbiamo Spirit Island. Due giochi DBC dell'anno, top. Al terzo posto abbiamo Terraforming Mars, al secondo posto Root, ovviamente anche qui, e al primo posto ovviamente con classic numeri stratosferici. Wingspan. Wingspan è il gioco che le persone non solo hanno più acquistato ma hanno anche più messo nella loro propria lista. Bene, è giunto il momento ragazzi di odiare ufficialmente Wingspan e chiunque lo sponsorizzi. Beh, se vuoi metterti, se vuoi impegnare... Che severità improvvisa. Perché? Basta, ha raggiunto il colmo. Non abbiamo... Come Canso Scalto? Come Canso Scalto? Come Canso, la stessa roba, se ne è parlato troppo, ha sfondato i maroni, quindi direi che posso cominciare la crociata contro Wingspan. Beh, va bene. Allora, armati di argomentazioni e settimana prossima vogliamo sentire... È aperta la cazza. L'argomentazione è alterige supponenza, caro Jack. Benissimo. Quindi direi che ci abbiamo tutto. Quindi, su queste basi estremamente fragili si fonda, diciamo, il partito anti-Wingspan lanciato dal buon Mac, senza alcuna ragione. Di cui lui è l'unico tesserato, tra l'altro. Tesserato, sarà il numero uno del partito. Uno su uno, Mac. Bene. Wingspan, tra l'altro, è un gioco che, onestissimo, noi non l'abbiamo... Secondo noi, non è stato, ovviamente, una perla così splendente nel modo da giocare. Penso che non l'ho ancora giocato. Però, a lei non l'ha ancora giocato, ma va bene così. Allora, chiudiamo, invece, questa breve retrospettiva. E, ripeto, questo è solo per darvi un'idea della mole di dati e per darvi alcuni dati gustosi, ma poi, ovviamente, i numeri sono tantissimi e ci sarebbe stato bisogno, veramente, di un intero episodio del DBC per coprire tutto il contenuto. Micro parentesi, Elisabeth Hargrave, quella che ha fatto Wingspan, adesso sta facendo un altro gioco con le farfalle. Ecco. Quindi, non vi dico... Ma... Non vedo l'ora! Stai calmo, stai calmo un attimo, stai calmo. No, non vi... Aspetta, si chiama... È il nome della farfalle in un'altra lingua. Aspetta, ma riposa. Ma riposa, sì, ecco. Però, vecchie... Papim! No, non vi dico l'attenzione mediatica che c'è praticamente la pressione che c'è su quel gioco lì, perché dopo che hai fatto Wingspan, chiaramente ci si aspetta di tutto da te. Ma, caro Bada, tu mi insegni voi, ragazzi, amici, compagni, mi insegnate che quando si prova a replicare il numero uno, alla fine è sempre difficile. Alla fine è al posto degli ovetti, metterà tipo i bozzoli, orreggio... No, ma sarà... Metti gli aghi per infilzarle nei metri di... No, ma ragazzi, è completamente diverso da Wingspan. Sai che cosa mi ricorda? Entomologia. Mi ricorda quando Azul ha cercato con il secondo e poi il terzo capitolo di emulare il successo del primo. Purtroppo il primo è ancora lì. Come diciamo noi qui, chi prima arriva... Meglio l'altro. In realtà Sam & Pavilion... È vero, però... Ma non... Onestamente, ha ricevuto grande successo e pareri di critiche buone, però, secondo me a livello di vendita... Più di Xintra. Sì, più di Xintra, ma secondo me a livello di vendita e col primo non ci sarà mai paragone. Sì, il primo ovviamente sarà destinato a dominare. Tra l'altro a Vittorio Veneto è stato molto giocato il nuovo Azul, però tutti quanti l'hanno giocato e tutti quanti mi hanno detto, bello, godibilissimo, ma quando tu hai in testa, hai l'esperienza fatta col primo Azul, fai fatica, cioè lo giochi per il piacere di giocarlo perché è il brand, è quello, però obiettivamente purtroppo è destinato a soffrire all'ombra di un capolavoro. Il padre putativo. È come se facessero Terraforming Venus. Che c'è nell'espansione, tra l'altro. No, Terraforming Venus, invece di Terraforming Mars. Sì, ma puoi fare Venere in una delle numerose espansioni di Terraforming. Sì, ma non ha una meccanica come quella del pianeta base, insomma. Devo dire, ecco, comunque ragazzi, chiudiamo con due, secondo me sono abbastanza chicche e sono i top pre-order del 2019, cioè i giochi che sono stati nel corso del 2019 i più pre-ordinati. Escluso Kickstarter. No, no, incluso Bricks, che anzi sono praticamente sostanzialmente i pre-order, vengono considerati Kickstarter perché di fatto quello è. Allora, al quinto posto, Anachroni, Fractures of Time, che cos'è l'espansione? Di più peso. Sì, l'espansione di Anachroni. L'espansione di Anachroni è stato il quinto di più. Al quarto posto farà piacere Ale, On Mars. Con la cerda. Con la cerda. Al terzo posto. Molti dicono che sia veramente, probabilmente, il suo top gioco perché è quello un po' più compatto rispetto agli altri, se non ero altro. Che è già arrivato. Mi sta arrivando. Mi sta arrivando. Io lo dicevo per ridere. No, no. Senti questa. Al terzo posto c'è Tainted Grail. Eh beh, eh beh. Ok. Fall of Avalon, ovviamente ragazzi, siamo pronti qua sul pezzo. Super attenzionatissimo. Al secondo posto c'è Aetherfields. Eh beh. Ah, l'altro titolo è Wake and Real. Ok. Quello co-op, no? Sì, quello tipo Kingdom Death Monster. Sì, la gigantesca boss fight. Carino, li ho tutti. E al primo posto c'è, ovviamente, perché Jack deve essere punito per la grande espansione di Root. Di Underworld. Ah, Underworld. Di Underworld. Che aggiunge le talpe. Con le quattro mappe diverse, con le talpe e i corvi. Esatto. Quindi ragazzi, per tutti gli amanti di Root, sono davvero parecchi. Ricordatevi che sta per uscire un'espansione, una Big Box. Big Box. Quindi Big Box vuol dire un'espansione che quasi raddoppia il gioco. Noi abbiamo preso Ale. Sì, ovvio. Ok. Ve la giocate quando sono in ferie. L'hai preso anche tu, Vazzo. Esatto. Quindi, ovviamente, abbiamo due membri del DBC che sono uniti alla leadership di questo gioco che ha fatto più numeri dei due big game della Wiccan Realms. Ok. Però volevo farvi notare una cosa prima di chiudere. Allora, mi sono preso la libertà di mettere insieme i primi cinque pre-order del 2018. Ok. Giusto per far capire un attimo gli altarini. E qui, guarda te Ale. No, non guarda, non spoilerarti. Allora, tanto... Al quinto posto c'è... Parti che non riesco a leggere. Allora, Tidal Blades. Sì, sì, ok. Arriverà. Che non è ancora fuori pre-order del 2018. Ah, Tidal Blades, è vero. Quello bavissimo. Aspetta, quarto posto. Nemesis. Basta! Dai, però... Non faccio perché deve venire fuori una volta a settimana. Forse arriverà. Una tortura. Qui arriverà prima Alon, secondo print. Sai Ale? Bene, e al terzo posto c'è Unbroken, una ferita ancora aperta. Mamma mia! Sì, ma una ferita aperta e suppura. Fronto, Ani, la ferita sarà ancora aperta perché non arriverà mai questo gioco. A proposito di dire... Ale è livido. Ha contato fino a dieci per non bestemmiare. Va bene, possiamo saltarlo. Unbroken è portato, per chi non lo sapesse, come esempio di tutto quello che c'è di male nel mondo Kickstarter. Ale, di perché? In due parole. Perché la Golden Bell è una società di merda, ha tutto lì. Esatto, perché la sostanzialmente... Quarelatevi pure, non c'è problema. Un giudizio senza compromessi. Severo, severo, ma severissimo. Tanto c'ho la moglie Avvocato, se mi querela, no, mi gestisco. Benissimo. Avevano tutti gli asset. A proposito di improperia ed eresia, ovviamente, al secondo posto c'è Tangarden. Ah, è vero! Che non è ancora arrivato, un anno, ormai abbiamo passato un anno. Sta arrivando a meno di naufragi. Allora, la barca con la copia mia e quella di banda, perché ovviamente... Ah, c'è anche la mia, per piacere. C'è anche la tua? Ok, la copia è ridondanza, pazzesca. Vedrete delle copie, c'è un pacco in vendita con la mia foto, io con gli occhi finti. Quando arrivo lo vendo comunque, quindi se volete, contattatemi. Comunque, Tangarden è oltre un anno di ritardo e questi, ripeto, sono i pre-order fatti nel 2018 e siamo a numero tre giochi non ancora arrivati, quattro se contiamo il nostro Nemesis, quindi ok. E al primo posto, ovviamente, Tainted Grail, che iniziò a raccogliere pre-ordini due anni fa e ovviamente deve ancora arrivare, però... Furono molto onesti, perché parlando di agosto 2020, se ne ho ritardo male, è vero? Parlarono di agosto 2020 e noi provammo... Siamo ancora, eh? Per la versione in lingua, sì, sì. Provammo la demo a Essen 2018 con la promessa del gioco in uscita a 2020 inoltrato. Quindi, ovviamente, qui, sì, i tempi, ovviamente, assurdi, però, tra virgolette, onesti, perché per il momento ci siamo. Quindi, ragazzi, questo anche per offrire a voi una riflessione su quello che vuol dire, in questo momento, impegnarsi con i big game su Kickstarter, cioè tempi di attesa molto lunghi, scommesse sul lungo periodo, però, come vi impari di capire nel caso di Nemesis, a volte comunque ne vale la pena, a volte meno. Quindi, per capire cosa vale e cosa non vale, ascoltate il nostro Ale e siete a posto. Ecco, questo era per darvi un po' un'infarinata su quelli che sono i grandi titoli che hanno reso unico e interessante il nostro hobby attraverso gli anni. Ripeto, non mi sono tanto dilungato su tante classifiche, perché i giochi sono ultranoti, ovviamente questi numeri non possono che offrire... Ne abbiamo trattati il 90%, quindi... Esatto, non possono che offrire titoli stra-ultranoti, per quello non sono andato a darvi proprio tutte le classifichine una per una, perché per chi mastica un po' sono tutti i titoli un po' già visti. Ecco, per chi invece di voi fosse agli inizi, io consiglio di andare a vedere questa classifica, se avete, ripeto, dei dubbi e domande, scrivetemi, io vi rispondo, se state iniziando, che con i primi titoli, di solito, non so, si porta a casa un carcassone per vedere... Quindi, se stavo per cominciare, posso fare il preordine di Tainted Grail? Non ho mai giocato i giochi da tavolo. Sconsiglierei la... Posso partire con un Tainted Grail fast? Sai l'inglese? Perché no. No. No, ma qualcuno che lo sa lo trovo. Beh, non vedo controindicazioni. Beh, ma Giochi Uniti... Esatto, Giochi Uniti comunque lo porti in italiano. Ecco, diciamo ragazzi, io vi chiudo qui, settimana prossima si torna alla BGG Top 50 classica. Speriamo se non andiamo dalla tipa e la costringiamo a compilarla qui in trasmissione direttamente con noi. Esatto. In live. E quindi ragazzi... Sarebbe interessante. Benissimo, sì. Dopo, minacce a parte che comunque sempre ci stanno, ovviamente sono molto, ovviamente... Anzi... Fanno corretto. No, 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 ricordiamo che non è colpa di lei, è colpa del marito che non gli è giusta la tecnologia in casa. Sì, giusto. Il toc toc, signor marito della tipa che fa la frigidità. Allora, la signora Khan, io... No, K-A-H-A-N, è un... per voi buzzurri... Parente del portiere della Germania, dai, per voi... Parente di quello del film di Star Trek. Ragazzi, è un cognome comunissimo, Khan. L'era di Khan. Sharon. Lo dico qua, anche se non mi ascolti non mi puoi capire quello che dico. Sharon. Ma chi diavolo è che ha tutto su un computer... Butta tutto in cloud, sto script, e fatelo con la calcolatrice a casa... Cioè, cosa... Perché... Jack, magari non c'ha più voglia e accampa scuse pretestuose... Vado a prenderla a casa, comunque... In Virginia lì, in Mesota, dov'è? No, è inglese. In inglese. Bene, comunque, detto questo, fate le dovute minacce del caso, coltivata la nostra immagine comunque di prepotenza e usurpazione io direi di andare invece con invece il primo gioco vero e proprio di questa settimana che non può essere un gioco che è stato donato di violenza e sopravfazione si chiama Ireland and Sea è un gioco che è stato donato a banda in quel di DRG già lo conosceva già sbavava per questo titolo e adesso scopriremo insieme il perché tecnicamente io questa sera dovevo portare pensate voi un altro gioco che si chiamava Time Barons se non che il buon Andrea Mezzotto mi ha portato e regalato una copia di Ireland and Sea un gioco di cui mi aveva parlato a Essen 2019 dicendomi guarda tu se giochi a questo impazzisci perché è uno degli eredi di Shot and Totten quindi carte maggioranze pensate che me lo porta io chiaramente stravolgo la mia programmazione dell'intervento e porto immediatamente Ireland and Sea solo perché a Idea G ci ho fatto tipo 30 partite e scopro alle 3 di notte e aspetta sì ma perché una partita dura una partita dura tra l'una e mezza e le 3 perché perché l'autore di Ireland and Sea è John John Perry lo stesso di Time Barons che nella sua vita che nella sua vita ha fatto ben due giochi questi qua John Perry autore americano e scrittore di Philadelphia John Perry allora parliamo di un gioco di un card game di maggioranze alla Shot and Totten alla Shot and Totten solo che invece di avere tante line diverse ci porta praticamente in un setting in un tema di guerra in cui ci sono soltanto tre scenari per i quali combattere air quindi aria land terra e sì quindi mare quindi avremo gli aerei nel cielo dogfight combattimenti carri armati e soldati per terra e grandi portaerei incrociatori cannoni sommergibili manca lo spazio perché siamo diciamo siamo nella seconda guerra come setting siamo nella seconda guerra mondiale ci devono i sommergibili il gioco consta solamente di 18 carte numerate in tre semi da 1 a 6 perché? perché ci sono quelle marroni che vanno posizionate solo nell'aria quelle verdi solo nella terra e quelle blu solo nel mare ogni partita di queste 18 carte se ne giocano 12 perché vengono date 6 carte a un giocatore 6 carte all'altro ogni partita di questo gioco non costituisce che una parte una micro parte diciamo di una guerra più ampia perché a livello di punti quando tu vinci una singola battaglia e la vinci in modo netto fai 6 punti ma vincere la guerra costa nel totalizzare 12 punti questo è molto importante perché in questo gioco a differenza di tutti gli altri dello stesso genere ci si può arrendere l'avversario prima di una caporetto in quanto quanto prima ci si arrende e si depongono le armi tanto minori sono i punti che si regalano all'avversario perché se ci si rende conto che non si può spuntarla nel vincere come scopo del gioco due teatri di guerra su tre si può semplicemente cedere le armi e passare alla battaglia dopo per il bene maggiore ovvero per la vittoria della guerra a lungo termine perché per esempio se voi siete che ne so avete totalizzato 10 punti e l'avversario ne ha 6 se capite che non ce la potete fare piuttosto che andare avanti e perdere sicuramente gli ultimi 6 punti e regalargli la vittoria totale voi vi arrendete i primi turni in questo modo gliene regalate solo due e le partite vanno avanti durante il turno dei giocatori un giocatore cala una carta in uno dei tre dei tre teatri di guerra e ne risolve gli effetti gli effetti sono tendenzialmente molto semplici vi permettono praticamente di spostare carte flipparle dettano condizioni di gioco che devono essere rispettate tipo obbligando uno dei teatri a non avere più di tre carte cambiano il valore delle carte eccetera però l'altra genialata che ci ha messo John Perry è che le carte in questo gioco possono essere calate a scelta del giocatore sia face up sia face down vuoi dirti ma perché diavolo devo calare le carte dal lato storto innanzitutto perché dal lato storto valgono sempre due attenzione ok quindi tu dirai si sono numerate dall'1 al 6 cioè che vantaggio hai a parte l'1 cioè quelle sul lato giusto hanno dall'1 al 6 invece sul retro sono due tutte e due ok ma la figata è che le carte messe storte possono essere piazzate indipendentemente dal loro dove vuoi dove vuoi giallo poi poi tu costruirai delle combo per cui se ti serve vincere nell'aria piazzi una nave nell'aria da 6 coperta e poi con un'altra carta che giochi più avanti la fai flippare e quindi ti trovi praticamente il nautilus del capitano Nemo cioè una nave volante che spara gli aerei ok ma è possibile è possibile sì è legal ma quante carte hai in mano 6 carte per ogni partita 6 carte 6 carte e tu sei l'avversario e 6 sono le rimangono sempre fuori 6 quindi capite bene che in realtà il gioco è sempre estremamente stretto e poi voi non sarete mai veramente sicuri di quali carte ha in mano l'avversario anche perché a parte i 3 che è l'unico numero le cui carte di tutti gli scenari fanno esattamente la stessa cosa cioè flippare una carta nel proprio campo di battaglia o in quello dell'avversario tutte le altre hanno un potere unico che non è replicato in nessuna carta quindi non c'è il concetto che ok tutti 6 hanno lo stesso potere ma lui ha un altro uno quindi so che cosa ha no ogni uno ha un potere diverso ogni due ha un potere diverso e via dicendo in realtà più potente è numericamente la carta per esempio meno incisivo di solito è il suo effetto per esempio il 6 che è il numero maggiore ha un potere super triste non ha alcun potere sono punti è brute force c'è una simmetria tra il primo e il secondo giocatore perché il primo giocatore come in tutti i giochi di maggioranza tu mi insegni Jack è penalizzato rispetto al secondo che avrà diritto a giocare l'ultima carta delle 12 e quindi potrà tendenzialmente grazie all'uso per esempio di un 6 portarsi a casa uno dei teatri di guerra senza che l'altro possa rispondere però il primo giocatore vince tutti i pareggi quindi il modo di giocare che tu hai a questo gioco quando sei primo o quando sei secondo è completamente diverso perché da un lato tu puoi mirare al pareggio e vinci dall'altro invece devi assicurarti di essere praticamente in maggioranza ma quanto si vince? si vince in totale la guerra si vince a 12 punti però la singola battaglia se tu non hai ceduto non ti sei ritirato prima della fine della partita e sei andato fino in fondo e hai perso due teatri su tre con un semplice meccanismo di conteggio aritmetico di maggioranza perdi 6 punti quindi capisci bene che se perdi due battaglie in modo netto hai perso la guerra quindi ti conviene sempre mediare tra quello tra i punti che tu stai per fare e quanto potresti cedere in potenza al tuo avversario se le robe stanno andando male perché succede delle volte che tu ti rendi conto abbastanza presto che un po' le carte che hai tu in mano un po' le carte che hai in mano all'avversario diciamo si sta mettendo abbastanza male finirà in tragedia quindi potrai cedergli 2-3-4 punti ma due blocchi da 6 sono la sconfitta della guerra ragazzi questo gioco qui chiaramente Andrea me l'ha consigliato perché sa chi amo i card game di maggioranza come questo qui è un gioco pocket che costa poco che potete portarvi ovunque e consta solo di 18 carte quindi meglio di così tutti e a livello di meccanica essendo uno degli eredi di shot and totten però più elaborato come vi ho spiegato in realtà è una droga cioè è incredibile perché questo gioco qui una partita dura 10 minuti anche meno a volte tra giocatori esperti però non otterrete mai due volte la stessa partita e le considerazioni che fate variano match per match anche perché terminata la prima la prima piccola battaglia gli scenari si scambiano di posto quindi il mare passa per primo l'aria in mezzo e la terra a destra e continuano a cambiare ogni partita questo perché le carte sono concepite sempre per avere effetto sui teatri vicini quindi anche il fatto che gli scenari ruotino con una semplice con un semplice spostamento di una carta in realtà cambia proprio la partita che tu fai quindi metteteci che ci sono 12 carte su un pool di 18 ogni partita metteteci che ogni carta è asimmetrica rispetto a tutte le altre che ci sono tre teatri diversi e quanto cambia tra primo e secondo giocatore ragazzi questo gioco qui è veramente una perla sono sincero a tutti i lati positivi di un prodotto di carte compatto e moderno e chiaramente il setting come si può dire il tema scelto è appiccicato perché tendo a dire però se non si sente tanto la guerra non si sente tanto in un gioco di questo genere qui la guerra però ragazzi a livello di decisioni a livello di blef a livello io so che tu potresti avere quella carta allora metto questo qua me la gioco con questo timing ma tu sei ultimo quindi poi alla fine avrai la bomba da 6 eccetera in realtà è una figata incredibile anche perché tu puoi mettere per esempio il fatto di metterti un 6 coperto da qualche parte e poi rigirarlo a metà partita è in realtà d'adito al fatto che finché la carta è coperta il tuo avversario non sa che cos'è quindi tu gli neghi delle informazioni poi va detto che per esempio quando tu cali le carte l'ultima carta che cali sovrascrive le precedenti cioè tu non puoi mai flippare una carta che non è la prima dello stack nel relativo campo di battaglia però gli effetti ongoing delle carte gli effetti permanenti delle carte durano forever cioè quando uno ti gioca l'embargo l'embargo dice che in tutti i teatri vicini all'embargo nessuno può schierare più di tre carte totali quindi se tu lo giochi nel momento in cui tu hai due carte sulla terra e l'avversario ne ha una capite bene che in quel momento l'avversario non può più giocare carte in quel teatro e quindi tendenzialmente voi ve lo state per portare a casa quindi lui dovrà adattarsi in corsa e correre di pari investendo sugli altri due perché comunque il fatto che lui non possa più mettere carte lì gli dà più proiettili da spendere negli altri due allora posto che c'è la foto di tutte le carte su Burger King che volevo sapere da te banda però ovviamente la questione linguistica quanto perché ovviamente il gioco è solo in inglese quanto testo c'è guardate ragazzi posso dirvi che il gioco è praticamente indipendente dalla lingua in quanto le carte face down non hanno testo hanno solo il titolo del gioco le carte face up hanno un testo elementare tipo più tre forze ai teatri vicini oppure gira una carta tua o dell'avversario cose del genere oppure sposta una carta ok tutto elementare sono 18 carte una volta che vi siete imparati queste scritte base sinceramente non mi sento di dire che è un gioco in cui se non conoscete l'inglese non ne date fuori perché testo minimo inglese base lo consiglio davvero a tutti l'unico problema vero di questo gioco per cui ho strabenedetto Andrea è che al momento è esaurito ovunque in Italia lo vendeva Uplay e non si trova più su Amazon.de no su PGG Market c'è una fonte italiana che lo dà 17 euro però probabilmente affrettatevi perché secondo me è abbastanza se lo trovate anche non so in Germania o lo trovate insomma da qualunque parte ragazzi questo gioco qui è fenomenale se vi piacciono i card game compatti di maggioranze come per esempio Battlelands o come Shot and Totten Battleline eccetera questo devo dire la verità è un prodotto per il 2020 siccome è eccezionale benissimo grazie banda per questa bellissima overview di un gioco molto compatto ma molto molto valido e che costa davvero poco se riuscite a trovarlo così non ci potete accusare che vi facciamo spendere troppi soldi anche perché anche settimana scorsa vi abbiamo dato comunque un'idea carina che secondo me costava davvero abbastanza poco mentre non è il caso ovviamente per il gioco che sta per trattare Mac in via del tutto eccezionale Mac parlerà di un kickstarter parla lui perché aveva la versione ha tuttavia la versione originale di questo gioco e mi deve spiegare perché non dovrei fare il brutal warlord in questo gioco perché è l'unica ragione per cui vorrei giocare a questo gioco che ovviamente stiamo parlando ragazzi avete già capito Return of the Dark Tower un prodotto kickstarter super sulla crescita dell'onda con autori fenomenali che stanno curando la riedizione di un vecchio classico della se non sbaglio MB yes della MB Giochi un gioco che se vi andate a riascoltare il nostro vecchio classificone con i migliori giochi della nostra infanzia MB è stato tirato fuori in tempi non sospetti e che adesso torna sulla bocca di tutti grazie a una riedizione ultra mega deluxe naturalmente su kickstarter esatto vai 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 allora Return of the Dark Tower è ben più in realtà di una riedizione caro Jack perché come è già successo nel precedente titolo vintage riesumato dalla Restoration Games si tratta di un vero e proprio sequel e questa cosa è stata molto stressata anche in campagna dagli avatori molto dibattuta esatto perché ovviamente rispetto appunto all'isola di fuoco Fireball Island Return of the Dark Tower presentava sicuramente un impegno maggiore se non altro perché il suo elemento portante come nella vecchia versione è e sarà la mitica torre nera che cappeggia al centro del tabellone da cui il nome da cui il nome giustamente però fin dalle prime battute fin proprio dalle prime righe della campagna kickstarter si capisce che il gioco va in una direzione diversa essendo essendo i due autori principali un certo signor Rob Daviau e un altro certo signore Isaac Childress è giusto aspettarsi ovviamente un titolo totalmente cooperativo cosa che il precedente del 1981 non era assolutamente era un anzi un competitivo anche piuttosto feroce e cosa dire ragazzi il cuore pulsante del gioco ovviamente è la famosa torre nera parto da questa perché è veramente una cosa che ha molto diviso la critica ed è il gimmick su cui si fonda il gioco ovviamente i due autori che sono due autori veramente di livello hanno capito subito che non potevano semplicemente adagiarsi su quella che era la memoria di chi lo ha giocato negli anni 80 anche perché a livello di gameplay era veramente tagliata con l'accetta veramente tagliata sì 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 tra l'altro il gioco era hyper random ed era una delle cose che lo rendeva anche abbastanza frustrante in alcune partite e qui invece la torre è diventata un vero strumento di gioco che si integra in maniera molto particolare con quella che è la componentistica fisica quindi per la prima volta abbiamo un sistema elettronico e meccanico perché la torre ha anche una parte meccanica tutt'altro che banale e che si integra molto bene con quello che vanno a fare i giocatori durante la partita perché dico questo perché oltre ad essere ovviamente una versione migliorata aggiornata e migliorata della storica Dark Tower cosa fa questo questo gigante nero questa torre di ossidiana in mezzo al tavolo di 30 cm di 35 cm forse sarà anche qualcosa di più dovrebbe essere intorno ai 35 esatto in combinazione con l'app che è stata sviluppata appositamente per questa edizione del gioco gestisce tutti gli eventi i mostri e le varie avversità che gli eroi dovranno affrontaggiare durante la partita gestisce tutti questi elementi però in un modo particolare perché grazie a una serie di sensori e alla connessione bluetooth all'app permetterà un autolivellamento all'interno del gioco in cui sostanzialmente l'esperienza di gioco si andrà a plasmare su quello che fanno i giocatori cioè ogni partita la tipologia dei mostri e delle avversità che si trovano a fronteggiare i partecipanti innanzitutto sarà diversa perché Return to Dark Tower sarà un gioco con degli scenari che mutano ok il setup di ogni partita sarà anche piuttosto diverso l'una dall'altra per via della combinazione di nemesis di quest e di nemici che potrete trovare durante le vostre avventure e tutte queste informazioni andranno contribuiscono a creare l'esperienza di gioco che verrà appunto gestita proprio elettronicamente dalla torre e si baserà non solo sulle diciamo le carte o gli eventi che verranno estratti tramite l'app ma anche tanto per dire da i teschi che vengono buttati nella torre ebbene sì perché un'altra delle nuove feature della torre è essere dispensatrice dei temutissimi teschietti che rappresentano i punti corruzione che si spargono sul tabellone fisicamente come in una dice tower dove è lanciato dentro i teschietti e poi cadono a random sulle terre che compongono il tabellone ovviamente non ci si poteva fermare qua e perché ho detto prima che la torre è anche uno strumento meccanico molto interessante perché come la vecchia torre degli anni 80 anche questa ha degli elementi che girano al suo interno ma non un cilindro con delle lucette colorate che illuminano di volta in volta delle simpatiche illustrazioni fantasy no ragazzi qua parliamo di tre sezioni di dimensione crescente dalla base verso perdono dall'alte verso la basso tipo il modo di uno shuttle esatto che vanno praticamente a ruotarsi a seconda di come dell'avanzare del gioco e aprono o chiudono tutta una serie di cose tra cui appunto le feritoie da cui escono i teschi quindi potrebbe essere che durante il turno di banda noi buttiamo dentro per qualunque motivo 5 teschi di questi non esce neanche uno perché all'interno della torre ci sono tutto un sistema di meccanismi che con una modalità random che adesso non è ben identificata però possono far sì che nel mio turno non uscirà ancora nessun teschio e poi escano tutti e 25 quelli che ci sono dentro nel turno di Jack quello che succede sempre a me quando giocavo a Brindle il bello è che può non ridarteli quindi tu devi comprare dei set extra di teschi naturalmente in vendita a prezzi esattamente e questa cosa ovviamente è molto strumentale al gioco perché i teschietti sono sostanzialmente dovete immaginarveli come i cubetti delle malattie di pandemico perché questi teschietti cadono sulla plancia e vanno posizionati vanno assegnati sostanzialmente agli edifici e rappresentano la corruzione del male che sta via via mangiando la civiltà dei vostri ma qual è il nostro obiettivo il obiettivo è come in tutti i giochi fantasy che si rispettino è sconfiggere il male che si annida nella torre nera del resto come era quello del gioco originale ma nella torre nera c'è una sorta di sauron che capeggia in realtà ce n'è più di uno perché le nemesis a seconda dello scenario la nemesi finale il nemico finale cambia finisco un secondo il discorso della torre perché poi si collega a tutta una serie di altre vicende certo certo i teschietti che escono dalla torre vanno appunto piazzati nei vari edifici che compongono i nostri possedimenti e qui questo mi dà modo di parlare delle varie meccaniche che convivono all'interno di Return to Dark Tower perché su una base di meccanismo di gioco come da engine building sostanzialmente un piccolo engine building si innestano anche delle parti piuttosto importanti di gestione risorse perché per l'appunto lo scopo dei giocatori da una parte è quello di arginare la corruzione che avanza inesorabile turno dopo turno nel frattempo però devono riuscire a fortificare gli edifici che se no vengono distrutti dai nemici devono evitare di prendere loro stessi la corruzione che può portarli alla sconfitta devono contemporaneamente fare esperienza raccogliere tesori e virtù specializzandosi sempre di più per andare poi ad affrontare nella torre nera il nemico finale della battaglia che è dipende dalla partita è la terza volta che lo diciamo se non stai attento io comunque faccio il brutto al warlord vado dentro il primo turno ecco benissimo non puoi farlo perché mori male ma fammi l'esempio di un cattivo non lo so beh c'è è tutta gente iper pesa stregoni gente orrepilante mostri deformità parlamentari l'unico che io ho visto che so di per certo essere una nemesis appunto è l'ish di cui parla di cui parla poi altre in realtà se andate sulla pagina kickstarter ci sono molte nemesis che sono poi molte un paio che sono state sbloccate con i vari stretch goal e comunque diciamo che quindi l'esperienza di gioco rispetto al predecessore è molto più variegata proprio per questa particolare commistione fra tecnologico e analogico e avremo gli edifici in 3d di plastica come avevamo nella vecchia versione ovviamente tutto con la qualità odierna avremo molte carte che ci illustrano i mostri e i nemici che andremo ad affrontare di scenario in scenario una delle cose più belle che più mi ha entusiasmato di questo titolo è però la gestione degli eroi ossia e questo è legato anche alle quest e alle side quest ossia ogni eroe ha un'abilità peculiare uniche che lo rendono diverso dall'altro e durante il gioco possono acquisire nuove virtù che gli conferiscono nuovi poteri gli fanno fare esperienze quindi diventano sempre più performanti nel gioco c'è una valuta che è quella dello spirito che permette ai giocatori di fare tutta una serie di attività di cose particolari ad esempio fortificare gli edifici guadagnare le famose virtù quindi spenderla come se fosse esperienza comprare guerrieri e quindi ingrossare il proprio esercito una delle cose basilari da fare se si vuole riuscire molto Mage Knight molto Mage Knight esatto a meno che io abbia il brutal warlord e ora vado via da solo portare l'assedio alla torre quindi hai bisogno comunque di raclutare c'è questo elemento che mentre nella vecchia versione era un po' come dire labile ecco si intuiva poco qua fin da subito capisci che senza un esercito bello tosto non vai da nessuna parte un altro elemento che potrà essere acquisito dagli eroi durante le loro avventure sono gli alleati gli alleati sono una cosa molto particolare perché sono proprio i classici compenio epica cavalleresca che oltre ad aiutarti che possono aiutarti nelle quest che stai facendo e nelle side quest che vengono scoperte durante il gioco che si avvicendano l'una dopo l'altra tuttavia questi alleati per delle fatalità di gioco possono anche rivoltarti si contro la corruzione eh sì non è solo per la corruzione in realtà caro Jack può avvenire da quello che ho capito può avvenire anche se tu non soddisfi determinati requisiti entro un certo limite di tempo vogliono anche essere pagati cioè scandaloso vengo con voi ma se non mi dai l'anello dopo entro un'ora buonissimo esattamente questo cosa cosa fa succede ci sono cose pazze questo lo raccontano gli autori nel durante il il dev diary che stanno tenendo qua la campagna esatto e possono decidere ad un certo punto di abbandonare rivoltarsi contro l'eroe aspettandolo alla torre nera quando lui andrà a portare l'assalto per bastonarlo di santa ragione quindi che bello no quindi è veramente ragazzi cioè è un mondo dove non è che si possa fare proprio affidamento fino in fondo se non voglio dire skin di Kenny Guerriero che ruola tipo rei ma mia e va alla torre e va alla torre a portare per picchiare a scena beh mi sembra una buona proposta caro Ale e dicevo prima ma mia dicevo prima delle quest e delle side quest perché oltre alla vicenda principale su su cui si basa lo scenario e quindi la sconfitta della nemesis portando l'assalto alla torre nera ci saranno una serie di side quest che cicleranno durante la partita perché rimarranno in gioco un numero variabile fra i due e i quattro turni perché il gioco è scandito dai mesi ok dal passare dei mesi e queste side quest si avvicendano durante questi mesi la cosa interessante è che queste side quest non sono tutte per forza positive ok però ci sono alcune che se non vengono soddisfatte per tempo quella è una side quest negativa drogarsi di più ci sono le side quest che tu devi fare e non ti danno apparentemente nessun bonus ti danno solo una sfiga le classiche merde da pestare bravissimo è come su Marvel Champions quando ti esce il bisogno dell'eroe ok o bravissimo o bravissimo io sono rimasto sorpreso di una cosa durante la campagna Kickstarter di cui poi vi do un po' di dati cioè il il break even cioè il il funding richiesto dalla Restoration Games al lancio della campagna era 750 mila dollari che è una cifra per Kickstarter altissima ragazzi veramente Ale me lo può contarmare beh allora il tanto in contemporanea a quello della Monolith che è stato cancellato perché non l'ha detto bene dopo quattro ore questo 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 pledge era minimo questo pledge minimo era stato ampiamente superato e il gioco fondato con successo questo perché è una mia interpretazione però non è stata semplicemente un'operazione di revival di un uno storico gioco vintage molto amato da chi era bambino negli anni 80 ma bensì perché è stato preso il concept è stato reso molto moderno e soprattutto la cosa veramente vincente la mossa veramente vincente di Daviau e Childress è stata quella di prendere la torre e farla diventare un oggetto di gioco a tutto tondo cosa che prima era in realtà c'è da dire una cosa già quella del 1980 in realtà per l'epoca era uno strumento tecnologico avanzatissimo ragazzi cioè era come avere un master praticamente robotico che ti diceva che cosa succedeva durante l'avventura e vi assicuro ragazzi che per chi è stato ragazzi negli anni 80 era una cosa che non aveva alcun tipo di uguale in questo senso all'epoca c'erava solo Simon Says esatto con le sue lucine Simon Says You Suck questo è un inside joke perché abbiamo visto una volta quando siamo andati a New York con banda la prima volta abbiamo visto un tipo in metropolitana con la baglietta di Simon Says e dietro è scritto You Suck ma è bello che aveva Simon Says in alto quindi tu leggevi e poi abbassavi lo sguardo e ci hai detto You Suck la torre nera non farà questo però vi garantirà un'esperienza di gioco veramente unica nel senso che lo sforzo tecnologico ed ingegno che è stato messo in questo strumento è pazzesco vi dico andatevi a vedere un po' dei filmati dove spiegano come è stata concepita come è stata realizzata fisicamente la torre perché vi renderete conto che è un'opera di ingegneria veramente notevole tra l'altro ecco una cosa che non ho detto prima nel suo girare e nello scoprire varie cose la torre a un certo punto ovviamente è dotata di tutti i comfort della tecnologia moderna tipo i led rossi che si illuminano il sonoro e tutte le figate ha una spa dentro praticamente sì le manca solo di buttare fuori il fumo e poi c'è tutto non è detto però potrebbe essere uno stretch goal esatto pensate che a un certo punto durante la partita a seconda di quello che succede potrebbero accendersi dei glifi rossi dietro delle specie di finestre che voi potete aprire che modificano pesantemente quello che il giocatore di turno può o non può fare i costi ad esempio di certe abilità oppure la possibilità o meno di che ne so compiere alcune azioni rispetto ad altre quindi ragazzi è uno strumento che veramente fa parte fondante è parte fondante del gioco e per parlare un po' di numeri la campagna è partita il 14 febbraio e si chiuderà il 14 gennaio e si chiuderà il 4 febbraio quindi avete ancora qualche giorno di tempo peccato che non fosse il 14 perché era il perfetto regalo di San Valentino assolutamente il 14 febbraio uscirà dell'altro tranquillo sto già preparando l'intervento eccolo lì il colore sorgnone di A al momento in cui parliamo 2.386.513 dollari molto sul ridicolo 765.000 richiesti anzi raccolti l'obiettivo era 765.988 molto preciso molto preciso beh c'è da dire che il costo non è esattamente popolarissimo perché abbiamo un pledge base di 125 dollari che non farà nessuno siamo partiti con un gioco da 15 euro ma più che altro quello lì secondo me non farà nessuno farà tutti l'oling francamente anche io mi sento di dire è insensato fare un pledge base quando quello con l'oling il gioco di cui ho parlato stima scorsa ne costava 90 e non aveva la torre e non aveva la torre esatto l'oling con tutte le espansioni già sbloccate e poi tutti gli stretch goal del caso sono 225 dollari 203 euro quindi tu scusa quale hai fatto ma che domande fai Ale grande o l'oling tra l'altro ragazzi scusate qui piccola parentesi dovete sapere che Dark Tower è stato per me e la mia famiglia perché ci ho giocato tantissimo con mio padre e mio fratello uno dei giochi più amati in assoluto tant'è che come diceva Jack in apertura di intervento ne conservo ancora gelosamente una coppia miracolosamente funzionante a casa dei miei genitori tra l'altro l'abbiamo vista e l'abbiamo messa in funzione un paio di Natali fa o magari questo è quello che gli dicono i suoi genitori da quando aveva 12 anni poi in realtà sicuro che era suo padre che faceva sicuro che non ne voglia una copia chiedo ma allora posso sempre cedergli la mia volendo perché amore di figlio ovviamente a 400 dollari ovviamente sotto adeguato compenso comunque ragazzi la consegna di questo kickstarter è segnata per febbraio del 2021 quindi fra un anno esatto e data la però la precisione giusto per il capodanno cinese però se dobbiamo basarci su quello che è stato Fireball Island Curse of Vulcar che è stato consegnato mi pare con solo 15 giorni di ricardo si la restoration effettivamente possiamo tra l'altro perdono scusate ulteriore inciso questo è un gioco su cui gli autori e la restoration game lavora da più di tre anni quindi è in sviluppo da molto tempo questo anche per farvi capire la solidità del sistema c'è già il rulebook disponibile in inglese sul sito sulla pagina kickstarter io me lo sono guardato fa venire un sacco di acquolino in bocca anche perché ci all'interno del gioco ci sono alcune illustrazioni degli stessi autori che hanno lavorato a unmatched di cui banda ha parlato qualche settimana fa quindi qualità grafica ragazzi over the top in generale tutta la grafica è bella non eccessiva molto minima soprattutto per quanto riguarda le icone eccetera è veramente anche un bel prodotto esteticamente dimmi Ale una curiosità tanto perché questo progetto è attivo da tanto tempo se torniamo al 2018 fino al 2018 io avevo fatto un elenco dei kickstarter più attesi del 2019 e c'erano Aridia che era dell'autore di XIA che non è ancora partito che partirà a metà di quest'anno e c'era Aridia parte con ISS Vanguard in contemporanea non si sa scusate volete aridire un po' vi faccio sentite questa il pledge da 125 dollari l'hanno fatto in 3699 persone per me dei fogli aspetta il pledge da 225 l'hanno fatto in 9217 eccola lì anche perché ragazzi il contenuto della versione all-in aggiunge due nuovi personaggi una marea di ci sono le miniature pack c'è il miniature pack dei cattivi token upgradati eccetera tra l'altro i teschi in osso proprio teschi veri ovviamente preso proprio dalle ossa degli autori tra l'altro alle fontanelle a Napoli sono andati a prenderli uno stupendo uno stupendo add-on a pagamento purtroppo ma che non c'è nella pledge all-in è il playmat circolare 80 cm di diametro quindi anche loro sulla pagina kickstarter scrivono bene controllate di avere un tavolo abbastanza grande per farci stare la gem ce la facciamo infatti stavo guardando prima il tavolo gem non teme questo problema perché è 120x180 quindi super top la torre da 30 cm quella non può essere set-upata sotto il tavolo non può essere set-upata come lui esatto io o la torre che dire ragazzi io allora visto i nomi coinvolti visto il fatto che Isaac Childress autore di Gloomhaven numero 1 su BGG e Rob Daviau autore di Pandemic Legacy numero 2 di BGG co-autore di Cthulhu That May Die giusto per dire direi ragazzi che perlomeno attenzionatelo non ho notizie attualmente di una versione in italiano e quindi non mi sbilancio potrebbe essere che magari prima della campagna però venga annunciata qualche partnership perché è una cosa stata molto richiesta e hanno detto la Restoration Games ha commentato nel forum della pagina Kickstarter nei commenti che ci stanno lavorando ma finché non hanno qualcosa di certo non si sbilanciano lasciano aperte le porte esatto teniamo incrociate le dita perché se arriva pure tradotto ragazzi siamo la parte digitale è un problema minimo secondo me se non lo porta a Smuday non so chi lo può portare questo qua perché è veramente duro beh insomma Tentegray l'ha fatto giochi uniti però effettivamente è un impegno incredibile a livello di produzione questo qua è una roba bisogna anticipare un po' di sorridere posso dire ragazzi che l'all in cioè il pledge all in spedito le spedizioni del pledge all in che sarà un bel peso perché tra miniature torre e quant'altro prega che non ci facciano la scatola di 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 isola di fuoco di isola di fuoco che praticamente la guardia si scioglie ecco l'hanno detto è stata una delle prime cose che hanno domandato vari rettum baker hanno chiesto ma la scatola farà schifo come quella di isola di fuoco l'hanno detto no anzi sarà di più farà più schifo perché noi vogliamo il meglio è corrotta la scatola e sarà corrotta dalla dark time ci sono già i fregi in foglia d'oro che sono stati sbloccati come stragi comunque hanno confermato che sarà molto solida e soprattutto il fatto che appunto ste benedette spese di spedizione sono 30 dollari per la versione all in che quindi pesa considerevolmente più della base come oath ecco fatevi due conti vedete dove vi conviene spendere i vostri soldi e poi ringraziateci perfetto grazie Mac questo è tutto per Return of the Dark Tower uno dei giochi più attesi sicuramente beh da me sicuramente chiaramente uno dei giochi anche più discussi questa è tutta la verità sul gioco ragazzi ovviamente avete già capito se avete un po' di esperienza vi siete già intagliati se il gioco vi può piacere o no mentre adesso parliamo invece di un gioco che abbiamo giocato qui al DBC l'abbiamo giocato insieme un gioco che insieme a Nimos War mi ha accompagnato in queste solitarie serate invernali un gioco che avevi anticipato mesi e mesi fa in uno dei tuoi Kickstarter preview l'abbiamo preso a Essen come forse qualcuno di voi si ricorderà è stato anche il nostro regalo di compleanno per Ale con la dedica di Vincent Dutré Dutré Rising Allora intanto anche questo è un Kickstarter del dicembre 2018 consegnato ai Baker tra l'altro non tanti mesi fa è arrivato credo un mese prima di Essen se non sbaglio consegnato ad Essen ne hanno approfittato per vendere le copie residue della stampa dei Kickstarter con soprattutto la componentistica deluxe della campagna con le risorse quelle un po' più fighe in pezzi di pelle umana e via dicendo il Playmat e il Playmat se lo vuole lo può fare se no non importa anche perché è comiambile la componentistica di base è comunque molto buona non parliamo di cubetti sono comunque i cristalli sono effettivamente di cristalli di plastica semplicemente quelli dell'edizione deluxe sono semi-trasparenti con l'effettino lucido bla 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 ecco allora Atlantis Rising è un fluco operativo da 1 a 7 giocatori che riprende il titolo del 2012 l'omonimo titolo del 2012 di Galen Cizel però all'epoca edito dalla Zedman Games Zedman Games scusa è il mio turno di corraggerti scusa e poi è stato rivisitato dalla Elf Creek Games che grazie anche alle illustrazioni di Vincent Dutré hanno prodotto un qualcosa che esteticamente se avete domande andate a vedere la gallery che abbiamo pubblicato un paio di settimane fa come ha detto Jack in chat bisogna dire che Atlantis Rising si fa fotografare decisamente si fa fotografare è un titolo che io ho giocato prevalentemente in modalità solitaria ma che per fortuna nelle ultime settimane siamo riusciti a intavolare tutti assieme qua al DBC e quindi abbiamo esplorato anche con un counter un po' diverso da quello del 1 cosa dire di questo gioco mi ripeto è un fulco operativo in cui voi dovete gestire dei leader di questa comunità che vive sull'isola di Atlantide e che si trova ad affrontare una l'ira degli dei l'ira degli dei una crisi molto ira una crisi climatica di alluvioni e di piogge torrenziali che sta lentamente annegando tra virgolette la popolazione che si raccoglie sempre più verso il centro dell'isola per attraversare uno Stargate uno Stargate che dovrebbe portare la salvezza lo scopo dei giocatori è appunto quello di raccogliere le risorse necessarie a costruire 9 dispositivi che compongono lo Stargate e alla fine il portale che gli consentirà appunto di evacuare l'isola questa è la prefazione il problema è il come si svolge il gioco il gioco è un classico piazzamento lavoratori tra l'altro un titolo che anche per la semplicità regolistica perché il regolamento è veramente basico per la semplicità regolistica è un ottimo titolo da presentare per introdurre la meccanica del piazzamento lavoratori e che vi vede appunto vagare per queste sei penisole che compongono Atlantide alla ricerca di risorse ma soprattutto alla ricerca di opzioni per riuscire appunto a portare in salvo la popolazione delle varie città come funziona il gioco il turno si sviluppa in contemporanea ognuno di noi ha un proprio leader con un'abilità architetturale pazzesca che sovverte completamente quelle che sono le regole normali del titolo chiamiamo in causa zappio il champion che consente di effettuare un'azione prima che la tai su cui si trova venga inghiottita dalle acque in maniera super triste abbastanza rotto e posizionandoli in modo più o meno intelligente lungo le tai che compongono le penisole e più o meno rischioso riuscire a completare questi dispositivi il gioco a livello di longevità ha un sistema di rimodulazione dei mazzi di carte che vi consente di giocare a 5 livelli 5 livelli di difficoltà crescente tutto questo avviene tramite due mazzi di carte il primo mazzo di carte è quello funzionale ai giocatori ovvero la library contiene una serie di carte con azioni speciali che vi consentono di un po' interagire con la mappa e con gli eventi in modo da evitare un fallimento catastrofico e poi soprattutto il mazzo del gioco è il mazzo delle misfortunes quelli delle sfighe classic mazzo delle sfighe questo mazzo ha una composizione variabile che dipende dal livello di difficoltà scelto e vi vedrà affrontare il lento affondamento di Atlantide infatti turno dopo turno giocatore dopo giocatore voi estrarrete da questo mazzo le carte misfortune relative alle aree che compongono l'isola e alcune carte speciali che vi spiegheranno come avviene appunto il flood cioè il inabissamento delle penisole come funziona a livello dinamico a livello dinamico il titolo è da osservare soprattutto a livello di mappa l'isola di Atlantide è formata da sei penisole tre che sono le wild peninsula c'è le penisole in cui voi potete andare a raccogliere le risorse necessarie a costruire gli oggetti e poi tre penisole invece che sono quelle civilizzate sono la forgia dove potete appunto andare a estrarre dai minerali il metallo la zona delle città in cui voi potete andare a reclutare nuova forza lavoro facendo accoppiare facendo accoppiare i vostri Atlantidei e infine il deserto che è dove voi potete andare tra virgolette in armitaggio per pescare carte a studiare e soprattutto avere l'opportunità nella library di trovare gli artefatti se ne sono quattro per ogni partita sono sempre diversi sono se non sbaglio quattordici e voi ne utilizzate quattro mescolandoli in modo casuale questi artefatti sono carte estremamente potenti che aggiungono un'ulteriore abilità peculiare al vostro personaggio spesso fondamentale per uscire ad arrivare alla vittoria è un gioco molto complesso da vincere se c'è poca alchimia al tavolo ma su questo torno dopo anche quando decido di parlare dei principali difetti del gioco il titolo in sé ha uno sviluppo molto più rapido di quello che ci si aspetterebbe di trovare infatti nel giro di un'ora più o meno si riesce a fare una partita a quattro senza grosse difficoltà in solitario non sono mai andato oltre i 40 minuti addirittura alcune sono andato solo 5 perché sono morto malissimo e la cosa particolare sono le differenze rispetto all'edizione originaria grazie ai suggerimenti raccolti dal 2012 l'anno di uscita della prima versione Galen Sisel ha un po' rielaborato il regolamento eliminando alcune delle fasi che rendevano il gioco più tedioso come l'attacco ateniese la marina trantidea e via dicendo ha praticamente asciugato un po' il regolamento termine asciugato in un gioco di inabissamento sempre ha un po' ripulito il gioco per renderlo un pochino più veloce e fruibile e ha introdotto il Wrath of the Gods cioè questa fase di conclusione del turno in cui l'ira degli dei si scatena sempre più violenta più tempo voi impiegate per completare l'obiettivo appunto di costruire lo Stargate e lo fa semplicemente attraverso un'ulteriore difficoltà che è l'inabissamento di una serie di tile dovuto appunto a quest'ira che si scatena sull'isola il modo che hanno i giocatori per vincere si basa essenzialmente nel rischio sicuramente cioè nel rischiare ma con la dovuta tattica anche con la dovuta strategia in un certo senso perché c'è una strategia più o meno dominante che può facilitarvi a seconda della composizione del gruppo ecco che fanno da protagonisti durante tutto l'arco della partita sono i dadi infatti è un gioco che di sicuro non può essere tacciato da Eurogame perché la componente aleatoria è fortissima quindi la raccolta delle risorse sulle tile è assolutamente dipendente dal tiro di un dado e parliamo di tiri che hanno una media del 5 per essere portati a termine infatti a parte l'isola quella del minerale che ha un successo un po' più elevato perché nella primissima tile mi pare che sia successo dal 2 o il più nelle tile invece dell'oro e del cristallo già da subito cominciate ad avere necessità di tirare il 5 a volte anche il 6 per mitigare l'aleatorietà del gioco c'è un'ulteriore risorsa che è il potere mistico infatti voi potete tra virgolette sacrificare una delle azioni dei vostri omini per mandarlo in preghiera cercare di placare gli dei e di diretta effetto diretta conseguenza è quella di ottenere potere mistico la spesa di un potere mistico durante un tiro di dado vi consente di variare il risultato un più uno al dado semplicemente spendendo mitigatori è un mitigatore che oltretutto può essere utilizzato e speso per ad esempio costruire le barriere mistiche o addirittura riportare in superficie una tile che è stata sommersa ovviamente serve molto potere mistico 5 in questo caso o 4 per queste barriere mistiche le barriere mistiche sono dei blocchi tra virgolette che gli attenti dei riescono a istituire su una delle penisole la loro scelta e che bloccano un flood successivo quindi se quella penisola dovesse essere estratta dal mazzo misfortune immediatamente si blocca questa fase di di flood e invece viene semplicemente rimossa la barriera che avevate piazzato questi sono gli unici mitigatori della sfiga poi ovviamente tutto il resto lo dovete giocare con i vostri poteri e con le carte che riuscite a ottenere dalla library è un titolo che non è semplice da gestire nel senso che il livello di difficoltà soprattutto all'inizio è abbastanza ampio soprattutto con counter più bassi come funziona? io non ho avuto modo di provare in 5 6 o 7 quindi da quei counter non mi sono stati preclusi io ho provato in 6 dopo vi dico ok io invece posso dirvi come funziona da 1 a 4 giocatori perché in quella configurazione l'ho provata allora soprattutto per me dopo averlo giocato la migliore configurazione è quella a singolo giocatore perché una delle principali problematiche del gioco che l'ho proprio sperimentata è che c'è l'evidente e smaccata probabilità di trovarsi di fronte a un alpha player feroce io non sono d'accordo su questa cosa qua se c'è un direttore d'orchestra che ti spiega qual è la mossa migliore da fare tu puoi tranquillamente evitare di giocare e lasciare che i tuoi moni vengano piazzati da qualcuno io non sono d'accordo perché hai le tue carte quello che ho provato io e io quello che ho provato l'opposto quindi ve lo dico ragazzi per onore di cronaca le carte sicuramente le carte sono dei metodi in cui l'alpha player può essere bloccato ma in realtà capita spesso che un po' tutti siano a conoscenza delle carte in mano agli altri questo ovviamente anacqua il bloccare l'alpha player in realtà scatena un ulteriore livello di analisi che si mette in gioco non so io non ho riscontrato questo problema scusami te lo devo dire perché è importante hai detto che è uno dei problemi più grossi che è riscontrato io zero però ripeto perché l'alpha player è Jack quindi di conseguenza lui non lo percepisce no 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 in realtà è una cosa su cui Ale abbiamo perché questo gioco qua io sapete mi diverte però non è un gioco che io percepisco come chissà che no sì personalmente però mi sono divertito con voi però ammetto che nella nostra partita nella partita che abbiamo fatto l'ultima volta effettivamente diciamo il ruolo di Jack è stato preponderante cioè per noi l'alpha player c'è stato e si è sentito parecchio io onestamente non dicevo neanche niente perché ero quello che sapeva giocare meno quindi mi facevo un po' guidare quando Ale mi ha detto ho fatto diverse partite e la miglior configurazione per me è un giocatore ammetto che dopo la partita che abbiamo fatto ho detto secondo me qui viene fuori una cacciara cioè in questo gioco qua molto più che per esempio in un pandemic viene fuori una cacciara perché con la scusa che il piazzamento lavoratori è su tutta la mappa libero e indipendente dalla posizione in cui tu sei viene fuori il mercato una tonnara viene fuori oh metti quello no meglio se vieni qua no prendi quello mettilo qua no ma allora un bordello un bordello e io infatti ho detto ragazzi vabbò faccio così faccio così allora la dico così poi se sei d'accordo cioè se avete problemi di alpha player con un per dire pandemic questo non li risolve ma non è che se avete un bel gruppo questo gioco vi fa emergere questo problema secondo me poi fate voi ecco tanto che avendolo provato anche in formato digitale perché per provare ho cercato inutilmente di provarlo in sei o sette non ci sono riuscito ma partite a tre ne ho fatte una valanga in digitale una delle regole di partenza era zero chat vocale e l'unica cosa che puoi fare è chiamare aiuto su una tai cioè tu piazzi un omino in uno slot in cui è necessario che qualcun altro venga dati supporto e qualcun altro può farlo ma zero chat vocale non si può non si può parlare è andata alla grande nel senso che si è proprio lì ognuno aveva ovviamente le carte erano totalmente sconosciute agli altri ognuno aveva la propria strategia di base eravate solo a conoscenza delle abilità dei leader degli altri giocatori e è andata devo ammetterlo molto bene abbiamo fatto addirittura tre partite consecutive in una serata sola poi mi sono ritrovato altre volte a giocare con loro in quattro è stato particolare ovviamente è una configurazione di gioco che può essere anche riproposta nella formata quella analogica quella ovviamente col tabellone nella fase di piazzamento l'unica cosa che potete fare è chiedere aiuto su una determinata tile questo riduce enormemente il problema se non lo risolve completamente e soprattutto c'è rimane soltanto la discussione per decidere quando determinate carte misforto vengono estratte e voi potete scegliere quali sono le tile da girare certo scusate posso fare una domanda vai ma come cavolo fate a decidere cosa costruire tu semplicemente puoi pingare la roba in giro e basta è l'unica roba con cui puoi interagire a livello di costruzione tu pinghi col tuo colore fai semplicemente segnali che tu vai a costruire quella roba lì e finita e vai l'altro potenziale problema e poi vi dico i pregi del gioco l'altro potenziale problema invece è l'ergonomia ovviamente il gioco ha un forte problema in ergonomia perché ogni singola penisola è formata da una serie di tile sono sei se non vado errato che vanno spesso girate e rigirate a seconda se state sommergendo oppure state riportando alla luce quel particolare territorio e spesso dovete star lì a spostare la roba e rimetterla a posto è un problema abbastanza secondario perché alla fine ovviamente il gioco si struttura in quel modo lì lo sapete che è fatto in questo modo qua non porta via particolare tempo e a parte magari un meeple o due meeple non dovete spostare altro per fare effettivamente quella procedura però comunque per qualcuno può essere fastidioso a livello grafico di componentistica di struttura il gioco è assolutamente pregevole e soprattutto la modalità a singolo giocatore è una sfida incredibile vi spiego rapidamente come hanno introdotto la modalità a uno e due giocatori hanno inserito all'interno del gioco base quello che era la prima versione due figure gli holograms gli hologrammi e soprattutto l'automaton che è una specie di robottino che vaga per l'isola cosa succede? voi iniziate la partita con un solo champion parlo della modalità solitaria un solo champion scegliete quale utilizzare dopodiché fate il gioco come normale cioè avete i vostri 5 meeple il leader più 4 e poi gli altri 3 eventuali sbloccabili sono posizionati sulla route of the gods e possono essere prodotti facendo accoppiare appunto due meeple preesistenti avete l'accesso agli attranti dei quelli bianchi che sono quelli generici che possono essere ottenuti attraverso l'effetto di alcune carte o di alcune alcune componenti dello stargate ma soprattutto ogni turno voi pescate due carte ologramma scegliete e che riportano gli altri leader potenziali del gioco scegliete quale dei due poterli utilizzare e voi avete un meeple ologramma da piazzare e da sfruttare infine l'automaton è questo robottino che va a darvi un contributo in una tile cioè voi lo piazzate in una zona quello vi dà automaticamente un più due al dado in quella zona la particolarità è che per singolo giocatore pescate quattro carte misfortune ogni round e vi assicuro che quattro carte in giocatore singolo sono tantissime vuol dire affondare una media di quattro cinque tile a round e sono un'enormità l'unica diciamo mitigazione l'unico bonus che vi viene concesso è che ogni turno producete in automatico un potere mistico mentre invece normalmente doveste andarlo a andare a fare pregando ok in due giocatori la funzionalità è più o meno la stessa non c'è l'automaton pescate comunque quattro carte misfortune ma avete a disposizione ovviamente dieci meeple da piazzare contro i cinque del giocatore singolo già qui capite che la forbice di difficoltà è molto più mitigata a livello di giocatore singolo ho una percentuale di vittoria che è inferiore al 40% lo dico onestamente è veramente molto dura da fare anche perché appena sbagliate un paio di tiri di dado se non avete accumulato energia mistica è un massacro però di conseguenza è anche il bello del dover rischiare per forza per portare a termine appunto la costruzione degli elementi la seconda roba molto bella è appunto costituita dai componenti dello stargate questi variano di partita in partita avete un pool abbastanza ampio da cui estrarrete poi i nove che compongono lo stargate e alcuni di questi diventano anche delle possibili aree in cui andare a posizionare il vostro lavoratore per ottenere bonus molto più forti rispetto a quelli di alcune carte e di alcune aree delle isole quindi avete ad esempio c'è quello che vi fa pescare due energie mistiche avete quello che vi fa convertire il non mi ricordo un cristallo in sette energie mistiche cioè avete appunto queste aree che sono fortissime una volta che le avete costruite è un gioco molto di calcolo anche perché avete necessità di avere accesso a determinate risorse e dovete ben bilanciare il posizionamento dei vostri lavoratori avere un eccesso di una risorsa è assolutamente inutile quindi voi dovete proprio focalizzarvi nell'ottimizzare ogni singola mossa dei vostri lavoratori infine il principale pregio secondo me è la rapidità di gioco unita al alla dinamica che si sviluppa al tavolo se voi immaginate un popolo in crisi a causa di questo cataclisma voi vi troverete all'inizio a cercare di forzare alcune risorse posizionandomi magari anche nelle tile più esterne delle penisole poi comincerete a ragionare in modo un po' più conservativo cercando di posizionarvi più o meno nelle zone centrali comincerete a venire sommersi dalle acque e verso la fine l'unico modo per sopravvivere sarà raccogliervi al centro dell'isola in preghiera sperando di avere tempo sufficiente per poter completare le ultime cose che vi mancano a livello puramente tematico questa è la cosa che mi ha sconvolto di più infine un potenziale problema che per ora non ho ancora visto ma che sto subodorando è quello della longevità fate quello che stavo per dire perché il mazzo misfortune a parte la variazione del numero di mare calmo che non fa praticamente sprofondare nessuna tile e del controlled flood che praticamente è una carta che vi consente di scegliere voi quali sono le due tile da girare bene o male è costituito sempre nello stesso modo non c'è grande variabilità in questo e lo vedo come potenzialmente un problema alla fine voi vi intaglierete che le 3-4 carte crisi più pressanti sono alcune tipo quella che vi distrugge un componente che vi può letteralmente mandare a ramego una partita e spesso cercherete di trovare le scamotage per andarla a eliminare o rimpiazzare nel mazzo inoltre a parte il proseguimento dei livelli di difficoltà e appunto la componentistica che andate a creare e scusatemi i componenti che andate a costruire non lo so la mia paura è che sia un ottimo gioco per introdurre una meccanica ma che non possa essere intavolato con grande costanza dovete far passare un po' di tempo fra una partita e l'altra perché altrimenti diventa un po' troppo simile a se stesso nello sviluppo una volta una volta che l'hai finito a livello 5 lo rigiocheresti ancora oppure lo metti dietro difficilmente lo rigiocheresti a livelli inferiori lo rigiochi sempre a livello 5 4 però dipende perché se tu per esempio hai questo qua secondo un ottimo gioco verissimo tutto quello che avete detto sono d'accordissimo però se magari avete un gruppo di neofiti e siete in tanti 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 dico 5-6 questo è un super gioco da tirar fuori perché comunque al di là ok del potenziale per i qualfa player che comunque quasi tutti i collaborativi hanno eccetera però è un gioco che in 5-6 fa divertire subito tutti coinvolge tutti è rapido si impara in un attimo tutti hanno comunque la possibilità di contribuire e ti senti veramente parte di un bel team ed è il discorso che io nella partita di Essen a 6 fatta con tutti sconosciuti è stato super figo è stata una delle più belle esperienze fatte a Essen quest'anno infatti per è stato in 6 con tutti che dicevano la loro sì un po' di confusione è vero c'era anche quel problema lì però di fatto comunque era sempre c'era un un bel clima era un bel clima e tra l'altro era un clima che era completamente come dire una specie di caos controllato poi abbiamo fatto anche casino e certe cose le abbiamo sbagliate però non mi ricordo giochi collaborativi da 6 o 5 in cui ci si diverte più o meno tutti lo spieghi in 5 minuti e poi ovviamente il discorso che il tabellone è la rappresentazione fisica di quello che succede nella storia nel gioco è anche una cosa che quando c'è qualcuno di nuovo è una cosa che coinvolge subito perché tu vedi proprio fisicamente l'isola che scompare sotto le acque e per questo trovo un gioco per esempio ideale per convention o posti che cercano di attirare nuovi nuovi giocatori ma diciamo che cooperativi da questo numero di giocatori non ce ne sono tanti e soprattutto non che si possono condensare in 60 75 minuti di partita proprio penso non esistano a questo livello qua sicuramente per giocatori più scaffati potrebbe andare rapidamente a noia ma da presentare a casual player a neofiti oppure per appunto introdurre una meccanica è un titolo pazzesco io l'ho già provato con il gruppo di gioco quello formato da mia moglie e altra gente e effettivamente anche loro si sono trovati alla grande ecco il costo non lo so perché me l'avete regalato non me lo so possiamo dire che dunque mi baso un po' sul market che da un po' ci sarebbe anche da chiedersi se l'edizione deluxe cambi molto rispetto all'edizione retail normale in realtà non c'è l'edizione deluxe se tu non compri tutti i componenti aggiuntivi se matericamente giochi col base se ti cambia tanto l'esperienza di gioco rispetto a quel playmat è vero il playmat ti cambia è veramente una roba irrenciabile a livello di risorse no a livello di risorse bene o male riesci a gestire lo stesso i dadi sono un po' scarsetti quelli base però sono dadi però il playmat ti cambia molto intanto ti facilita la costruzione dell'isola perché ti dà più o meno un'indicazione di quali sono le aree dove fare le varie potete costruire l'isola su un tavolo in legno poi proprio a livello di tavolo ti riempie gli occhi però ecco la cosa interessante è che qui hanno scelto di dire ok allora gioco base full tappati le orecchie comunque vabbè diciamo un costo da attorno ai 50-60 euro ok e dopo pacchetto risorse questa cifra qua e playmat quest'altra cifra qua fate voi vedete voi giocatelo comprate il playmat provatelo con playmat accessori a parte accessori a parte e decidete voi quanto e come comprare le cose extra e per un kickstart è una cosa abbastanza abbastanza curiosa le esclusive tra l'altro sono molto poche sono qualche carta non c'è granché ah e poi tra l'altro i personaggi da scegliere sono tantissimi quindi anche qui ecco una cosa che combatte un po' il discorso longevità è il fatto magari di provare diversi tipo all'inizio proviamo con la squadra fortissima con tutti i player rotti oppure facciamo a random oppure facciamo il draft i personaggi sono talmente tanti che si può fare questa cosa la partita che abbiamo vinto meglio è stata quella con i personaggi a random tra l'altro stranamente ci siamo trovati una combinazione fortissima alcuni sono veramente intenibili altri sono veramente situazioni ci sono dei personaggi fighissimi che soprattutto a un certo punto partono delle combo incredibili e quindi vi danno veramente dei boost pazzeschi per esempio c'è oppure c'è un personaggio tipo quello che usavi tu banda che all'inizio partita prendevi un artefatto e io usavo quell'artefatto un artefatto random e uno dice beh vabbè magari ti capito perché sono tanti artefatti ti capita l'artefatto figo sgrauso mi è capitato un artefatto che all'inizio abbiamo detto ma babba e invece si è rivelato che per metterti di partita è stato il perno il perno attorno a cui quello che convertiva un metallo convertiva un metallo in un'altra risorsa sembrava una cavolata invece l'abbiamo sfruttato in maniera veramente pesante tra l'altro altra cosa pesante altra cosa che mi piace un botto e poi veramente chiudo è il fatto che quando tu costruisci gli artefatti questi diventano spaziazione perché il gioco parte con tutti che vanno a minare l'oro e le risorse ma poi tutti sono a pregare e quei pochi che non sono a pregare sono a sfruttare le spaziazioni che avete costruito nei turni prima quindi anche le spaziazioni evolvono durante tutta la partita e questa è un'idea che trovo veramente interessante al di là del fatto che ho preso i difetti su Atlantic Rising ma è una cosa che mi pare forse poco sfruttata nei piazzamenti lavoratori che sono sempre comunque in cerca di nuovi spunti il cambio attivo della plancia durante il gioco secondo me è uno dei punti di forza di questo titolo sicuramente molto semplice però anche qua funziona perché effettivamente tu ti trovi a sbloccare proprio degli spaziazioni che poi inizi a sfruttare lasciando un po' al mare anche qui il fatto di dover fare sempre 6 col dado è sempre molto mitigato dal fatto di avere magari degli artefatti che ti permettono di evitare di dover tirare ogni volta il dado per fare 6 esatto ecco per concludere sicuramente adesso introdurrò sempre nel piazzamento lavoratori analizzando anche Everdel che è un gioco che diciamo un po' a livello di conseguenza vorrei provare dopo Atlantis Rising perché anche quello rielabora il piazzamento lavoratori in un modo un pochino diverso dallo solito e perché lo ha spravente criticato per il fantomatico albero l'alberone l'albero alberoni salva tutti al momento è stato montato sul mio tavolo solo per la prima partita ed è già stato rimosso smontato però Everdel è tornato spesso a trovarti Ale top talk quindi nelle prossime nei prossimi episodi potreste incappare in una discussione su Everdel sempre teaser super teaser bene grazie mille Ale questo era Atlantic Rising Rising per tutti voi ovviamente dubbi domande richieste citofonare Capitano Rubbo grazie a tutti ragazzi per essere stati qui con noi abbiamo dato tutto anche questa settimana io sono Jack io sono Banda io sono Mac e io sono Ale grazie ancora a tutti e mi raccomando come sempre ci vediamo dall'altra parte grazie ciao amici grazie a tutti